No, vabbè, al primo tempo abbiamo fatto un po' fatica, pure io, a trovare magari la posizione giusta. Abbiamo provato qualcosa di nuovo, però al di là di quello, perché puoi provare tutto, però penso che siamo mancanti un po' di atteggiamento al primo tempo, all'inizio. Poi dopo il gol siamo migliorati, anche il secondo tempo. E un periodo, magari venivamo da un periodo, no? Quindi l'importante oggi era vincere, cioè portare a casa i tre punti. Hai detto una cosa importante, facciamo fatica a trovare la posizione. Secondo me la posizione giusta è quella del 4-3-3 nel secondo tempo. Sbaglio, so che non ti puoi sbilanciare, però almeno la storia di Memus hai dice quello. No, ma non si parla della mia posizione, parlo proprio in generale. Quindi non è il 4-3-3, tanto il mister lavora sull'occupazione dei campi e per tratti l'abbiamo fatto alla grande. Poi ora venivamo da un momento no come prima, quindi oggi l'importante era portare a casa la vittoria. Quanti margini di miglioramento ci sono secondo te? A questa partita serve, ora dobbiamo pensare già subito a martedì che ci aspetta una bella partita, quindi dobbiamo cercare di vincere anche quella. Ti chiedo un'ultima cosa, Lerian, ti dico, spesso sei stato criticato perché lasci la posizione e gli avversari attaccano in quella zona del campo. Come ti senti di rispondere a questa cosa? Non sapevo neanche di sta cosa, quindi manco rispondo.